Musica Slitta al 1 gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica per l'acquisto di carburanti. Le piccole imprese dell'agroalimentare volano in Giappone grazie a Confartigianato e all'agenzia ICE. In arrivo novità positive nel percorso per diventare meccatronico. Campagna e iscrizioni volontarie a Sanarti, c'è tempo fino al 15 dicembre 2018. Confartigianato Bologna Metropolitana lancia il corso per sviluppatore 4.0. Bentornati all'appuntamento settimanale con il Tg di Confartigianato. In settimana, come annunciato alla nostra Assemblea del 26 giugno, il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha firmato il decreto che rinvia l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per l'acquisto di carburante. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio lo aveva ribadito all'Assemblea 2018 di Confartigianato. L'obbligo di fatturazione elettronica per l'acquisto di carburante slitterà al 1 gennaio 2019. Come per tutti gli italiani, imprese e partite IVA che hanno rapporti commerciali tra privati. La conferma alle parole del titolare del Dicastero dello Sviluppo Economico è arrivata con la pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale. Tutto rimandato al prossimo anno, quindi, per la soddisfazione dei gestori delle aree di servizio che si erano detti pronti ad incrociare le braccia. Una soddisfazione condivisa anche da Confartigianato, che proprio nei giorni scorsi aveva chiesto il rinvio della norma. Noi abbiamo sempre ospeccato una proroga dell'adempimento che è partito dal 1 luglio 2018 per alcune categorie di imprese. La proroga doveva essere 28, doveva essere un rinvio per tutti al 1 gennaio 2019. Purtroppo, soltanto una categoria, i distributori autostradali di gasolio e benzina hanno beneficiato della proroga, ma rimangono all'interno dell'adempimento dal 1 luglio numerosi altri soggetti, tra cui tutti i subappaltatori e subcontraenti, con un'impresa che opera con la PIA. Purtroppo l'incertezza è abbastanza sovrana in questa materia, ma soprattutto un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, una circolare proprio uscita il 2 luglio, che ha provato a delimitare e a perimetrare meglio l'adempimento. Una circolare che è arrivata sostanzialmente in zona Cesarini, quindi noi come intervento prioritario chiederemo al Parlamento, in sede di conversione del decreto legge della proroga del 28 giugno 2018, chiederemo la non applicabilità delle sanzioni per tutti coloro che hanno avuto l'adempimento avviato dal 1 luglio, ma che proprio in virtù dell'incertezza, molto probabilmente, qualcuno continuerà a fare fatture cartacee in luogo di quelle digitali. Secondo le stime degli economisti, il rinvio costerà allo Stato 5 milioni di euro, oneri che l'Italia aveva previsto di incassare dal 1 luglio 2018 e che ora coprirà con i fondi di riserva del Ministero dell'Economia. Non saranno i benzinai, quindi, a far da prepista l'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, già in vigore per i fornitori della pubblica amministrazione. L'impegno di Confartigianato resta quello di preparare tutte le imprese a questa vera rivoluzione fiscale. Come Confartigianato ci siamo mossi per tempo, fin dall'inizio dell'anno abbiamo coinvolto le nostre solità di servizi con un percorso di formazione sul nuovo adempimento, abbiamo coinvolto le imprese, cercando di raggiungerle direttamente anche con forme di interlocuzioni abbastanza significative, ma soprattutto da adesso in poi, dal 1 gennaio 2019, chiederemo al legislatore delle modifiche sostanziali per quanto riguarda gli adempimenti che dovrebbero venire meno con l'introduzione della fatturazione elettronica. Chiediamo massicce dosi di semplificazione. Noi siamo convinti che la fatturazione elettronica sia un percorso ineludibile, che vada anche nella digitalizzazione del Paese, quindi faccia bene sostanzialmente al sistema Paese, però dall'altra parte, visto proprio che viene introdotto un nuovo adempimento così gravoso, almeno in fase di primo avvio per le imprese, devono essere aboliti una serie di adempimenti. Dal 13 al 15 novembre 2018, Confartigianato guiderà la missione dell'Agenzia ICE in Giappone per presentare tante eccellenze italiane dell'agroalimentare e della produzione di vino. Una missione che rientra nel progetto Japan Export Pass e che farà tappa a Tokyo e a Kyoto. Per preparare gli imprenditori al mercato giapponese, la missione sarà preceduta da due giornate di formazione sulle leggi, l'economia e la cultura degli investitori nipponici. Per partecipare all'evento c'è tempo fino all'11 luglio prossimo. Per info e adesioni è possibile visitare il sito internet www.http.do.com Confartigianato Autoriparazione ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico importanti chiarimenti e conferme sull'iter per la qualificazione professionale e l'esercizio dell'attività. Vediamolo insieme nel servizio di Lorenza Manessi. Buone notizie per gli autoriparatori. Nei giorni scorsi il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato i criteri di flessibilità e di equità sollecitati da Confartigianato per regolarizzare l'abilitazione professionale dei meccatronici, dei gommisti e dei carrozzieri. Il via libera del Ministero è una tappa importante della battaglia che ha visto Confartigianato conquistare lo scorso dicembre la proroga di cinque anni per completare il percorso di abilitazione alle tre attività dell'autoriparazione previste dalla legge di riforma del 2012. A seguito della proroga servivano chiarimenti tecnici e indicazioni specifiche sul percorso che le imprese devono compiere. Il pressing degli autoriparatori di Confartigianato ha ottenuto l'effetto auspicato. Il Ministero ha accolto la richiesta di prevedere quei meccanismi di flessibilità indispensabili per tutelare gli imprenditori già attivi nel settore dell'autoriparazione e difendere l'operatività e il futuro di migliaia di operatori. Altrettanto positivo l'esito del confronto con la conferenza Stato-Regioni che nei giorni scorsi ha condiviso le proposte della Confederazione sugli standard formativi per la qualificazione professionale degli autoriparatori. Due risultati frutto dell'impegno di Confartigianato Autoriparazione per restituire certezze agli imprenditori che non vogliono sconti o corsie privilegiate ma chiedono semplicemente di poter operare con tutte le carte in regola in un mercato profondamente cambiato che ha leggi nuove e che richiede nuove competenze. Sanarti, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dell'Artigianato e della Piccola Impresa ha riaperto i termini per le iscrizioni volontarie di imprenditori, soci, collaboratori e dei loro familiari. C'è tempo fino al 15 dicembre 2018 quindi per aderire al fondo per il 2019 approfittando della copertura di prestazioni, visite specialistiche e tanti altri servizi sanitari. Per informazioni e contatti è possibile visitare il sito internet www.sanarti.it Il 27 giugno Confartigianato Bologna Metropolitana ha presentato a un convegno le opportunità di lavoro nate con lo sviluppo tecnologico introdotte da Impresa 4.0. Sentiamo Lorenza Manessi. Le imprese cercano tecnici 4.0 ma sul mercato del lavoro c'è carenza di queste figure specializzate e allora Confartigianato Bologna Metropolitana punta a colmare il gap con il corso sviluppatore 4.0. L'iniziativa è stata presentata lo scorso 27 giugno a Imola durante un convegno che ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo delle imprese e della formazione. Al centro del confronto il problema della mancanza di mano d'opera richiesta da imprese sempre più innovative in cui le competenze tecnologiche fanno la differenza e decretano il successo aziendale. Agli imprenditori serve personale preparato e motivato e proprio a questo obiettivo è dedicato il corso gratuito organizzato da Formart, il centro di formazione di Confartigianato Bologna Metropolitana. Dall'analisi proprio dei fabbisogni occupazionali abbiamo individuato questo percorso, un percorso che avrà una durata di 350 ore di formazione d'aula, al quale si aggiungeranno 150 ore di stage in azienda, nel quale andremo a formare la figura dell'analista programmatore web, figura che trova riscontro nelle richieste occupazionali proprio del tessuto produttivo. Era un percorso gratuito orientato verso disoccupati, residenti nella regione Emilia-Romagna, al termine del quale verrà conseguita, a seguito del superamento di un esame, la qualifica appunto di analista programmatore web. È proprio un'esigenza di risposta a un fabbisogno che abbiamo rilevato sul territorio, quindi riteniamo che sia molto importante formare queste figure per poterle inserire e garantire sviluppo al sistema produttivo, soprattutto in questo settore che è così radicato, in questo territorio. Il corso rientra nell'impegno dell'Associazione per promuovere lo sviluppo del tessuto economico locale, come spiega Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana. Bologna ha una grande tradizione sul versante informatico, non va dimenticato l'università, non vanno dimenticati gli istituti professionali che formano ragazzi. C'è un mercato che accoglie questi ragazzi, c'è un mercato che ha bisogno di queste professionalità, professionalità sempre più preparate ad affrontare le sfide della globalizzazione. Faremo un'azione di promozione proprio su questo versante per avvicinare sempre di più i giovani al momento tecnico all'interno dell'impresa. Lo sviluppo della città e del territorio passa attraverso il valore artigiano, passa attraverso il valore della competenza, passa attraverso il valore della unicità distintiva e per questo ci vuole grande competenza. Assieme vogliamo che il nostro territorio, la nostra città sia sempre più adeguata alle sfide della globalizzazione. Milano dal 10 al 12 luglio. Origin, passion and beliefs. Nell'ambito di Milano Unica si svolge il più importante evento fieristico legato alla moda e alla manifattura artigiana di settore. Per il terzo anno consecutivo, Confartigianato Moda sarà main partner dell'iniziativa. E vediamo in chiusura qual è il numero scoperto questa settimana dagli amici esperti. Vediamo. 311. Sono le imprese dell'artigianato nate ogni giorno nel corso del 2017. Accidenti, un bel numero. Bene, è tutto. L'appuntamento, come sempre, è per la prossima settimana, lunedì, sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Buona settimana e buon lavoro.